Mirko e Perla perché secondo loro addio nasconde un segreto scioccante. Il mondo del gossip è in fermento dopo la clamorosa rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, una delle coppie più seguite e amate del panorama televisivo italiano. L'annuncio della loro separazione, avvenuto solo una settimana fa tramite un post sui social media, ha lasciato i fan con il cuore spezzato. Tuttavia, dietro questo addio potrebbe nascondersi una verità più complessa e controversa, che ha visto coinvolta l'ex tentatrice Greta Rossetti. Nel suo post di addio, Mirko Brunetti ha cercato di spiegare le ragioni che hanno portato alla fine della sua relazione con Perla. «La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno», ha scritto Mirko, esprimendo la difficoltà di accettare la fine di una storia in cui aveva creduto fermamente. Mirko ha sottolineato come entrambi avessero cercato di ricostruire il loro rapporto dalle fondamenta, sperando in un futuro insieme. «Abbiamo davvero cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere, soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante», ha aggiunto. Nonostante le parole di Mirko, molti fan hanno subito cercato un colpevole dietro la rottura, puntando il dito contro Greta Rossetti, l'ex tentatrice con cui Mirko aveva avuto un flirt durante un'edizione passata di Temptation Island. Le accuse hanno rapidamente preso piede, insinuando che fosse proprio Greta la causa della fine del rapporto tra Mirko e Perla. Greta Rossetti, che non è nuova alle critiche, ha deciso di rispondere pubblicamente alle insinuazioni tramite il suo profilo Instagram, dove ha espresso il suo disappunto per essere ancora una volta coinvolta in dinamiche che non le appartengono. «Posso dire? Sono altamente stufa, fortunatamente la mia vita è un'altra, i miei obiettivi pure. Purtroppo per tante persone che non hanno nulla da fare o meglio una vita molto triste non è così», ha dichiarato Greta, respingendo le accuse che la vedrebbero come la causa della rottura tra Mirko e Perla. Greta ha poi approfondito il suo pensiero, evidenziando come il suo nome venga costantemente tirato in ballo dai fan, anche quando cerca di allontanarsi dalle situazioni problematiche. «Ho capito di essere un'ossessione per tante persone e ho capito che, mio malgrado, abbia provato a togliermi con tutte le mie forze da una situazione, quelle stesse persone fan mi vogliono più dentro di quanto pensano, dato che sono i primi a citarmi», ha continuato, esprimendo il suo disappunto per essere costantemente sotto i riflettori per motivi che non riguardano la sua vita attuale. Con un appello accorato, Greta ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy e di smettere di diffondere notizie false e infondate. «Un consiglio, da me che sono nessuno, rispettare di più le persone che seguite non buttando benzina inutile», ha concluso, cercando di mettere fine una volta per tutte a queste speculazioni. Le settimane di intensi rumors e speculazioni sul nuovo cast del Grande Fratello, che prenderà il via a metà settembre, hanno finalmente avuto una svolta. Da tempo circolano nomi di celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, alimentando l'attesa e il fermento tra i fan. Tra i nomi più chiacchierati figurano essi a Pascarella, Mike Arandazzo e Lino Giuliano, protagonisti dell'ultimo Temptation Island, Clarissa Barth, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Federico Chimirri e Giulia Mannucci, e ancora, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ex volti di Nonella Rai, accanto a Luca Calvani, Margherita Zanatta, Nadia Rinaldi e Franco Oppini. Tuttavia, nonostante i numerosi rumor, nessuno di questi nomi era stato confermato ufficialmente dal Grande Fratello fino ad oggi. La situazione è cambiata con l'intervento diretto di Alfonso Signorini, che ha finalmente messo fine alle speculazioni. Il noto conduttore ha smentito alcuni dei nomi più discussi, come Cristiano Jovino, il personal trainer noto come l'uomo del caffè di Ilari Blasi, e Thomas Ceccon, il campione di nuoto recentemente protagonista alle Olimpiadi di Parigi. Con queste conferme smentite, Signorini ha ufficialmente rivelato il primo concorrente del Grande Fratello, Jessica Morlacchi. Jessica Morlacchi, conosciuta al grande pubblico come una delle voci più apprezzate del Varietà. Oggi è un altro giorno di Rai 1. È ora confermata come partecipante. La sua partecipazione ha generato un notevole entusiasmo, soprattutto dopo il clamoroso incidente televisivo che l'ha vista protagonista insieme a Memo Remigi. La notizia è stata accolta con entusiasmo sui social media, dove Alfonso Signorini ha confermato la scelta con emoji di applausi, sottolineando l'importanza della presenza della Morlacchi nel nuovo ciclo del reality show. La conferma di Jessica Morlacchi come prima concorrente ufficiale del Grande Fratello segna l'inizio di un'altra attesa edizione del programma, che promette di regalare momenti indimenticabili e sorprese inaspettate. Con il debutto imminente, l'attenzione ora si concentra su chi saranno i prossimi volti a varcare la famosa Porta Rossa e come si evolveranno le dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia. I fan sono intrepidante attesa di scoprire quali altri nomi illustri si uniranno a Jessica Morlacchi e quali sfide e intrighi attenderanno i concorrenti di quest'anno. Con l'annuncio di Jessica Morlacchi, il Grande Fratello si prepara a un'edizione ricca di sorprese e colpi di scena. I fan del programma, ansiosi di scoprire gli altri concorrenti, possono aspettarsi un mix di volti noti e nuove personalità che promettono di tenere alta l'attenzione e di alimentare la curiosità. Con la data di inizio ormai vicina, cresce l'eccitazione per vedere come si evolveranno le dinamiche all'interno della casa e quale sarà l'impatto dei partecipanti sui telespettatori. La tensione è palpabile e le scommesse sono aperte, chi sarà il prossimo a essere confermato? Il countdown è iniziato e il Grande Fratello è pronto a riaccendere i riflettori. Il mondo dello spettacolo italiano è in subuglio dopo che Amadeus è stato citato in giudizio da Lucio Presta, uno dei più influenti manager del settore. La querela rappresenta un colpo di scena inatteso per il conduttore, recentemente passato dalla Rai al Canale 9. L'accusa, che coinvolge questioni legate a uno spettacolo di Checco Zalone all'Arena di Verona nel 2023, potrebbe avere ripercussioni significative per entrambi i protagonisti. Il caso ha preso piede a seguito di un'indagine che, sebbene sia stata successivamente archiviata, ha visto coinvolto Lucio Presta e la sua società, Arcobaleno 3. L'avvocato di Presta, Cersosimo, ha rivelato i dettagli della querela. L'Arcobaleno 3 aveva richiesto la concessione per l'uso dell'Arena di Verona almeno un anno prima dello spettacolo, mentre Giancarlo Mazzi, oggi senatore e sottosegretario alla cultura, era l'amministratore unico dell'Arena. Dopo lo spettacolo, è stato presentato un esposto alla procura, sostenendo che ci fosse qualcosa di poco chiaro nella concessione. Le indagini sono state avviate e, a marzo 2024, gli uffici di Arcobaleno 3 sono stati perquisiti. La querela si concentra su presunti comportamenti di Amadeus come testimone. Presta e il suo avvocato accusano il conduttore di aver dichiarato il falso sottogiuramento, in particolare riguardo ai rapporti tra Mazzi, Presta e Checco Zalone. Amadeus ha affermato cose del tutto false per cercare di creare dissapori tra il manager e il sottosegretario Mazzi, ha dichiarato l'avvocato di Presta, annunciando l'intenzione di procedere con una querela contro il noto conduttore. La situazione segna un netto deterioramento dei rapporti tra Amadeus e Lucio Presta, che un tempo erano considerati amici. La querela ha messo in luce tensioni e conflitti che potrebbero influenzare ulteriormente le carriere di entrambi. La comunità del mondo dello spettacolo e i fan seguiranno con attenzione l'evolversi della situazione in tribunale. Resta da vedere come questa disputa legale influenzerà il futuro di Amadeus e se riuscirà a superare questo ostacolo senza compromettere la sua carriera. La querela contro Amadeus rappresenta un episodio clamoroso che potrebbe avere ripercussioni importanti non solo per i diretti interessati, ma anche per l'intero panorama televisivo italiano. Mentre Amadeus prepara la sua difesa legale, il pubblico e i media sono in fermento, speculando su come questo caso potrebbe influenzare i progetti futuri del conduttore. La tensione tra i due ex amici mette in luce le fragilità e le complessità dei rapporti nel mondo dello spettacolo, dove le dispute legali possono rapidamente trasformarsi in eventi di grande rilevanza mediatica. Il risultato di questa battaglia legale potrebbe definire nuovi equilibri e portare a sviluppi inaspettati nel corso dei prossimi mesi.